In tempi di crisi sprecare il denaro non è consigliabile, ma i carabinieri certo non si aspettavano che qualcuno gettasse addirittura dalla finestra ben 620 mila euro. E' quanto accaduto a Ceglie del Campo, alla periferia di Bari, dove un 52enne, che evidentemente non aveva la coscienza a posto, ha pensato bene di disfarsi così di quel mare di banconote sospette. Nel corso di un controllo dei militari nella sua abitazione, l'uomo ha infatti lanciato dalla finestra due borsoni, poi recuperati, che contenevano 620 mila euro in banconote di vario taglio. All'interno, i carabinieri del nucleo radiomobile di Bari, impegnati in un servizio antiriciclaggio, hanno trovato 62 mazzette da 10 mila euro l'una protette da celofan. Il 52enne barese, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato in stato di libertà con l'accusa di riciclaggio. Il denaro è stato naturalmente sottoposto a sequestro e sono state avviate indagini per ricostruire la provenienza, quasi certamente illecita, dell'ingente somma.